Bene ragazzi, benvenuti al nuovo Apple Blog Inutile che vi dico che ci metto poco a farlo, però ci metto il tempo che posso Anche perché oggi è molto poco tempo, questi giochi di parole Infatti io domani mattina ho l'orale di maturità Ho visto un film che mi è stato consigliato dal prof di psicologia Ed è Nashville, è un film che parla su un festival country Ragazzi è pallosissimo, dura due ore e mezza Io mi sono messo a vederlo, va che ce l'avevo soltanto in inglese Con sottotitoli in italiano Però anche se fosse stato in italiano mi sa che mi sarei rotto anche tanto le balle Ti giuro io mi sono andormentato tre volte sul letto Non ce la facevo più, infatti poi sono dovuto ritornare indietro perché avevano stato dei pezzi Cioè, orribile, orribile Però vabbè, ho dovuto guardarlo per forza A me non posso dire di averlo visto Comunque, tornando a noi Guardate che bella screen che ho Cioè, stupenda L'odio a Michael Jackson E allora, oggi Una cosa veloce Allora, presentiamo un programma per mandare tre messaggi Gratis ogni giorno Questo come? Allora, innanzitutto Vi consiglio di fare questo Intanto connettetevi al wireless Questa applicazione per mandare i messaggi Dovete avere una collezione o 3G O wifi Per accedere a questa web app Ovvero, poi vi spiegherò Successivamente Dovrete andare su cerca Nel caso, questa non è una cosa che è obbligo a farla Però è comodo farla Comunque E schiacciate copy Ok Copy contact È il primo Ok Schiacciando copy contact Viene fuori questo qua Cosa serve questa applicazione? A copiare subito i numeri Della nostra rubrica Vedete che c'è il copy and call Sì, è vero Però facendolo così è molto molto più semplice Ve lo assicuro Quindi Cosa facciamo? Quindi scarichiamo la nostra applicazione Ok Quando abbiamo scaricato la nostra applicazione Entriamo nella nostra applicazione Non so, prendiamo ad esempio Questo qua 6 team Numero così 4, 5, 6 Allora, noi cosa facciamo? Schiacciamo sul numero E verrà fuori Call, copy o copy without format Oppure senza formatazione E ne facciamo semplicemente copy Così copiamo semplicemente il nostro numero di telefono Senza fare i giri gori col copy and call Che è di solito un po' una palla Successivamente cosa facciamo? Andiamo su Safari E scriviamo questo indirizzo Ovvero AISCABBY.SCABBY.IT Avete Beh, ve lo scrivo in superimpressione Comunque AISCABBY.SCABBY.IT Senza www Successivamente accedete Accedete in questa In questa pagina Aspetta, torno indietro In questa qua Poi cosa fate? Schiacciate su più In basso, in mezzo E fate Aggiungi Io ce l'ho in inglese Perché ho voluto tenere in inglese Comunque il mio Add to home screen Il vostro sarà tipo Aggiungere alla home Comunque il secondo Così aggiungerete Questa applicazione Ovvero AISCABBY Cliccandola E verrà fuori Sempre questa cosa Che è molto semplice Farlo Quindi facciamo su 3 free 3 free SMS E schiacciamo su Ehm Se andiamo premuto E schiacciamo su Paste Semplicemente E vi verrà fuori Quel numero Ovviamente Con la storia del copy Contact Non è obbligatorio Però è comodo farlo Ehm Però volete inserire Non so Un testo Non so Inserite un testo E successivamente Inviate Questo vi permette Di spedire Ehm Ehm 3 SMS Gratis Al giorno Questo è un tutorial Piuttosto semplice E' un'applicazione Che se magari Non avete i soldi Se siete a casa Avete una connessione Wi-Fi O 3G Cacchio ne so Avete bisogno di mandare Un messaggio O lo mandate Semplicemente Ne avete a disposizione 3 E niente Io con questo Concludo Il mio tutorial Ah una cosa Vi consiglio di scaricare Questa applicazione Che è gratis Si chiama Battery Life Visto che L'iPhone Ha dei problemi Con La batteria E' giusto Che noi ci teniamo Ci vediamo Le sue statistiche Per vedere A che punto siamo Comunque qua Dice La batteria In che stato è In questo momento L'ultima L'ultima volta Che l'ho caricata L'ultima volta Che l'ho caricata Che percentuale era E successivamente Non so che cazzo sia Last plug Il periodo Non lo so Non lo voglio sapere Comunque Da un po' di informazioni Sulla batteria Riuscite a Tenere d'occhio Anche questo Basta Con questo Concludo il mio Breve Spero Tutorial Comunque Niente Concludo Questo Il blog Fatemi In bocca al lupo Per domani E niente Dai Ci sentiamo Ciao ragazzi A proposito Io domenica Come ho già detto Finirò Quindi Apple blog L'ultimo Magari farò domani O sabato Comunque Siamo Siamo lì Tra poco Finirò di fare Fino ad agosto Ce ne sarà Forse qualcuno Dirà Però Per dire adesso Sarò in vacanza Bene ragazzi Ciao 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 Ciao